Quante volte avete sentito parlare di nazismo magico? No, non c'è niente di esattamente magico, non ci sono maghi, non ci sono degli udini della situazione con la svastica al braccio o le rune delle SS sul Bavaro. No, ma per nazismo magico si è sempre inteso un coacervo, un sincretismo tra l'occultismo, lo spiritismo, la ricerca a volte ossessiva di determinate radici scientifiche o pseudoscientifiche e genetiste della cosiddetta razza ariana, ma anche un nazionalismo fin troppo spinto, a volte sfociante nella vera e propria paranoia contro altre formazioni politiche di estrazione liberale piuttosto che di estrazione socialista e nel vero e proprio antisemitismo e razzismo. Per nazismo magico si intendono dunque diversi ambiti della teoria nazionalsocialista, anche prima che il nazismo facesse la sua reale comparsa sulla scena politica. Abbiamo già parlato in passato di come è nata la dittatura nazista, abbiamo già parlato in passato della divisione anenerbe delle SS, quella che si occupava durante la guerra e anche negli anni immediatamente precedenti della ricerca spasmodica, ossessiva di tutto ciò che poteva rimandare alla cosiddetta razza ariana. Ma c'era qualcosa anche prima dell'avvento del nazismo, prima che Adolf Hitler addirittura si arruolasse in un reggimento bavarese per combattere la Francia nella grande guerra. Nel 1910 nasce un circolo, potremmo chiamarlo così, occultista, populista, anche razzista, che pone le basi per quello che sarà successivamente il movimento nazionalsocialista e soprattutto per la filosofia base del nazionalsocialismo. Parliamo della società di Thule. Thule, secondo la dizione classica, è una mitologica isola che viene descritta da un antico greco, l'esploratore Pitea, e si dice che possa essere la regione d'origine delle nazioni germaniche, che sarebbero calate sul nord Europa attraversando il mare, proveniendo appunto da questa isola di cui non c'è nessuna traccia sulle mappe e che non è mai stata rintracciata nemmeno tra tutte le terre emerse attualmente come possibile identificazione. Thule, però, è un nome decisamente evocativo. È un nome che rimanda al mito norreno, agli dèi del tuono, del fulmine, della guerra, a Odino, a Thor, a tutta quella tipologia di divinità che discendono un po' dall'universo vichingo, un universo che alcuni circoli intellettuali tedeschi hanno sempre visto come molto vicino, intellettualmente se non addirittura socialmente. Ebbene, nel 1910, quando Felix Snyder crea la società di Thule, tutto ciò è ancora piuttosto aleatorio. Non c'è una vera e propria volontà di ripercorrere le orme del popolo vichingo, che d'altronde è scomparso nei secoli. Non c'è nemmeno quella tradizione dei cavalieri teutonici che verrà recuperata molto più tardi, anche attraverso la simbolica dell'SS. No, c'è solo una volontà nel 1910. Siamo in piena belle époque, lo ricordiamo. C'è la volontà di riportare la società tedesca alle origini come una società fondata sul predominio, sia culturale che materiale, e anche belbico. Nel 1910 la Germania è governata dal Kaiser, Guglielmo II, tra l'altro cugino e imperatore della Gran Bretagna, Giorgio V, e cugino anche di Nicolai II, zar di tutte le Russie. La Grande Guerra verrà chiamata la Guerra dei Cugini. Ma anche di questo ne abbiamo già parlato in un altro video. Soprattutto la Germania imperiale di Guglielmo II è una Germania fortemente impegnata e una politica di potenza che passa anche attraverso una corsa agli armamenti. È il periodo in cui la Germania aumenta la produzione di carbone e soprattutto di acciaio. La Germania interviene pesantemente anche nella politica coloniale. La Germania si impegna a costituire una società molto forte e la Germania sfida addirittura il predominio della Gran Bretagna attraverso la creazione di una potente flotta da guerra d'alto mare. È in questo ambito che nasce la società Thule. È una società che inizialmente ha degli scopi abbastanza utopistici. Quelli di riunire parte dell'alta borghesia e della nobiltà tedesca, obbligando un po' i membri a studiare. Studiare quello che era stato in passato il retaggio germanico, sin dai popoli barbari. Per poi passare attraverso le lotte con i romani, il massacro della foresta nera, per dirne una. E poi le invasioni, le invasioni del continente e la nascita dei primi regni germanici. Sono degli intenti che, teoricamente, potrebbero anche essere visti come qualcosa di inoffensivo. Ma parliamo di una società che, se fa dell'elitarismo, il proprio spirito già nell'accogliere i membri, diventa ancora più settaria, per non dire oscura, se si legge anche solo il motto scelto dai fondatori. Gedenke, dasstu ein Deutscher Bist, alte dein Blüttrhein. Ricorda che se è un tedesco, conserva il tuo sangue puro. È l'ossessione per la preservazione del sangue tedesco, che poi diventerà il sangue ariamo. Quello che porta alla nascita come movimento völkisch, cioè populista, della societature. Che dopo appena un anno dalla sua nascita, registra la sua prima pubblicazione, una rivista. Una rivista che col tempo diventerà sempre più un organo di rappresentanza. Ma questo ne parleremo dopo. La società Tule evolve, accompagna la Germania imperiale nella Grande Guerra. E quando la Grande Guerra termina, con la sconfitta della Germania che viene preceduta dall'ammutinamento proprio della flotta, che obbliga il Kaiser ad abdicare e ad andare in esilio, ebbene la società Tule subisce un primo cambio di pelle. Non c'è più solo il populismo vero e proprio, non c'è più solo l'ossessione per il nazionalismo tedesco o il pan-germanesimo. No, comincia a farsi strada la tendenza occultista. È il periodo in cui l'Europa è pervasa da quasi una mania, la mania di trovare ciò che è nascosto, appunto l'occulto, che non va confuso con l'esoterismo che è tutt'altra pasta, tutt'altro argomento. È il periodo in cui tanti europei, soprattutto di alto rango, come i nobili piuttosto che i borghesi d'alto rango, si fanno influenzare dalle teorie di Madame Blavatsky, oppure dalle danze magiche di Khrushchev. C'è l'eco che arriva da ciò che resta della Russia, di quello che aveva fatto il monaco pazzo, Rasputin, che aveva plagiato la famiglia zarista, convincendolo di avere delle proprietà taumaturgiche, curative e ipnotiche. Ed è attraverso anche queste suggestioni che la società Tule cambia pelle, diventa una specie di calderone in cui confluiscono la mistica orientale, addirittura qualche piccolo elemento di buddismo, la teosofia, appunto la Blavatsky, ma anche l'antisemitismo, la mistificazione delle rune e di tutto ciò che è la mitologia norrena e scandinava. Un po' di paganesimo nordico, qualche spruzzata qua e là di Menhir e Dolmen. E poi l'antisemitismo, il razzismo, è un elemento che dà sempre un po' di sapore alla zuppa. La ricerca del Graal, il calice che avrebbe raccolto il sangue di Cristo in croce, che avrebbe poteri magici. Tutto questo assieme viene mescolato ai primi ingredienti della Tule, ingredienti che parlano sempre di populismo e di sangue tedesco. Alla fine della guerra sono circa 250 i membri della Tule, si ritrovano abitualmente a Monaco di Baviera. Quella Monaco che diventerà la culla prima di una rivoluzione socialista che viene soffocata nel sangue, di una Repubblica dei Consigli che viene anche questa strozzata con l'intervento laterale di un ex membro di Tule. Perché il 7 novembre del 1918, a guerra ancora non del tutto conclusa, mancano giusto le ultime firme sui trattati, un intellettuale ebreo, sostenitore della Lega delle Nazioni, di nome Kurt Eisner, propone la nascita di una Repubblica Socialista, poi chiamata Repubblica dei Consigli, proprio a Monaco di Baviera, una specie di esperimento sociale. Mentre il potere imperiale ormai si è quasi completamente disgregato, si affermano dei tentativi di emancipazione. D'altronde la Baviera è come un enorme laboratorio politico. Il problema è che di lì a qualche mese Eisner non riesce neanche a vedere completata la sua utopia, perché viene assassinato da un uomo, un uomo un po' particolare, che si chiama Anton Graf von Arco und Falley. È un ex membro di Tule. È stato espulso perché quelli di Tule hanno scoperto che ha un po' di sangue ebreo nelle vene. E insomma, è un qualcosa che non piace ai membri di Tule. Ma von Arco und Falley ha cercato così di ingraziarsi i suoi vecchi amici, di far loro dimenticare quel peccato originale e farsi richiamare indietro, all'interno di Tule. Verità? Menzogna? Mistica? Suggestione? Fatto sta che l'omicidio di Eisner segna comunque l'inizio di un periodo di violenze. Pensiamo all'uccisione di Rosa Luxemburg, ma pensiamo anche all'irrompere sulla scena dei Freikorps. Gli ex militari tedeschi che sono tornati dal fronte dovrebbero essere teoricamente disarmati, ma vengono impiegati come formazioni molto, tra virgolette, volontarie per la repressione del dissenso. Sono armati i Freikorps, sono guidati da ufficiali anche di carriera. Uno di questi è Ernst Röhm, il futuro padre delle SA. Vestono ancora l'uniforme tedesca e vengono pagati dagli industriali, che temono sia le rivoluzioni liberali, tipo quelle di Eisner, che quelle socialiste e comuniste. Thule in questo periodo acquista un nuovo vigore. Un nuovo vigore e una nuova ragion d'essere. Si afferma anche con un nuovo giornale, che prende il posto della rivista originaria. Il giornale si chiama Münchener-Beobachter. Poi cambia leggermente nome in Münchener-Beobachter und Sportblatt. Quasi a voler distogliere l'attenzione, non si parla solo di politica. Eppure diventa l'organo di stampa ufficiale della società di Thule, che nel breve volgere di qualche mese vede aumentare sempre di più i propri iscritti. Ma chi sono questi iscritti? Sono tutti nazionalisti, convinti nazionalisti. Alcuni di derivazione populista, come Anton Drexler, colui che nel giro di qualche settimana fonda il DAP, Deutsche Arbeiterpartei. È il nucleo del futuro partito nazista. È la formazione in cui si infiltrerà Adolf Hitler come informatore della polizia per poi prenderne il controllo e trasformarlo, modellandolo a sua immagine e somiglianza. Ma non c'è solo Drexler. Ci sono Karl Harre, Dietrich Eckhart, Rudolf Hess, il futuro segretario del Führer. Alfred Rosenberg, il futuro filosofo del regime. Hans Frank, che diventerà governatore della Polonia occupata durante la guerra. E poi ci sono anche dei nobili, nobili anche piuttosto famosi, come Gustav von Turun Taxis, un nome pesante in Baviera. Ma c'è anche Wilhelm Frick, ci sono i Sesemann, c'è Pongratz, c'è Ott, c'è Riemann. Insomma, c'è veramente un'intelligenza diffusa, anche perché non si tratta di semplici popolani, di operai o di piccoli impiegati. Parliamo di nobili, parliamo di grossi commercianti, parliamo di industriali, parliamo di notabili. Frank, ad esempio, è un avvocato. All'interno di Thule si ritrovano tutte queste istanze e riprendono di nuovo la teoria del sangue tedesco, che va preservato contro le degenerazioni. Degenerazioni che sono di stampo etnico e quindi antisemitismo, ma anche di stampo culturale, sociale, politico. Il rifiuto di tutte quelle teorie politiche che non siano strettamente nazionalistiche. All'interno di Thule diventa chiaro che sta emergendo un altro laboratorio politico. Un laboratorio che porta anche alla riscoperta del templarismo, dei cavalieri teutonici, del Graal, come si è già detto. Ci si convince che la Germania sia composta da un popolo che ha delle resiste in una specie di razza superiore, la cosiddetta razza ariana, destinata a dominare il mondo. E che questa razza sia stata nel tempo contaminata da istanze aliene, che avrebbero ridotto la sua forza. I contatti con la Blavatsky portano addirittura a teorizzare la possibilità di comunicare via telepatica tra i membri di Thule. Thule però, proprio con la stagione dei Freikorps, inizia a perdere forza. Ma perde forza perché non tanto mancano gli entusiasmi o mancano i soldi, ma perché sta emergendo qualcos'altro. Mentre i membri di Thule continuano a baloccarsi con la purezza del sangue, con Shangri-La, con Agarti, con il Tibet, col buddismo, con la teosofia, c'è un'altra forza che sta emergendo sempre più. È una forza che, come detto, affonda le sue radici nella Thule. E molti dei suoi primi membri arrivano direttamente da Thule. Drexler. Ma non solo. Da Drexler si passa a S, a Rosenberg, a Frank, a Freik. Infine, Adolf Hitler. È il partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi. Il partito nazista, che da Monaco in Baviera parte alla conquista della Germania. Prima col fallito Putsch della Burger Breuer Keller, di cui abbiamo già parlato. Poi col Mein Kampf, le violenze sistematiche, l'approddo al Bundestag, prima con pochi deputati, poi con una presenza sempre più forte numericamente e non solo. E le pressioni, le pressioni costanti sulla classe politica, ma anche sulla vita economica e sociale del paese. Le alleanze strette, prima con i monarchici, poi con gli industriali, infine con i cattolici bavaresi. E quella rivista, quella rivista, quel giornale, il Münchener Beobachter, che diventa alla fine il Völkischer Beobachter, il foglio ufficiale del partito nazista. La trasformazione e la confluenza di Thule nel partito dominante della Nuova Germania a quel punto è completa. Thule non ha più ragione di esistere, si scioglie, lascia dietro di sé un'eredità che viene raccolta in parte da Alfred Rosenberg, in parte dalle SS di Himmler, con la Anne Nerbe che riprende la ricerca del Graal e non solo. E in parte una pubblicistica che è arrivata ancora oggi, lasciando tanti punti interrogativi sulla reale portata della Thule, sul fatto che fosse un semplice circolo culturale di matti, sostanzialmente, o di persone un po' deviate da presunte idee di suprematismo. O forse un centro di potere occulto che è riuscito sempre a restare sotto traccia. O ci sono messi anche i libri, i fumetti, i film che vogliono la Thule come una sorta di culla mai del tutto distrutta del nazismo che si rigenera. O addirittura, pensiamo al film di Guillermo del Toro e il Boy del 2004, come vera e propria scuola di occultismo per Hitler e per tutti i suoi sodali. Resta ovviamente un po' di mistero all'interno di Thule, anche per il ruolo della svastica. Quel simbolo solare che deriva dall'induismo e che nel Medioevo veniva accostato con ideali antisemiti alla cultura ebraica e che viene ripreso e capovolto dalla mistica nazista. Anche su questo non è mai stata fatta autentica chiarezza. Come la svastica sia diventata da simbolo induista a abbessillo di una delle peggiori dittature che si siano mai viste sulla faccia della terra. È un argomento che ancora oggi fa discutere gli storici e gli esperti di simbolismo. Ma questa, in fondo, è un'altra storia. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori.